Ciao a tutti amici e benvenuti a una nuova mini recensione dove, senza fare spoiler, vi parlo un po' dei film che mi regalate. Questi sono sempre film che normalmente scarto per fare il riassunto perché inadatti, però se c'è comunque qualcosa che ci tengo a dire, allora ripiego su questi mini video, queste mini recensioni dove ne parlo un po'. E oggi parliamo di The Head Hunter, dolore, rabbia, vendetta. Sì, come no. Come potrei parlare di questo film dicendo che fa cagare senza dire che fa cagare? È veramente erdua. Ma leggiamo la trama. Medioevo, un guerriero solitario protegge il regno dai mostri e dall'occulto. La sua raccapricciante collezione di teste non è ancora completa perché ne manca solo una, quella del mostro che ha ucciso sua figlia anni fa. Accecato dalla vendetta, l'uomo viaggia a cavallo, ricorrendo alla stregoneria per raggiungere il suo obiettivo. L'atteso scontro finale, però, lo farà sprofondare in un mondo più terrificante della realtà, dal quale sembrerà non esserci alcuna via di uscita. Cazzo, leggendo questo, sembra di essersi imbattuti in uno dei film migliori della storia. E invece no, porco cazzo. Perché in questa schifezzina della durata di 70 minuti scarsi non c'è nulla di tutto ciò. O almeno sicuramente non come è descritto e come ci eravamo immaginati. Infatti bisognerebbe dare un Oscar per la scrittura al copywriter che ha scritto questo riassuntino. Viceversa, forse è meglio dare una pacca sulla spalla, se proprio non volete ricorrere al calcio nel culo, al regista di sta merda. Perché va bene che l'hai fatto con 30.000 dollari che non sono niente. Cioè, niente per fare un film, 30.000 dollari, non sono niente. Però porca di quella vacca. Cioè, se ti danno 30.000 dollari per fare un film, ma tu non sei un genio e soprattutto con quei 30.000 del film ti ci puoi pagare soltanto le attrezzature, diciamo, e forse qualche costume. Il film non lo puoi fare. Cioè, è chiaro che non lo puoi fare. Perché viene fuori una palla megagalattica come questa. Perché questo film è una palla megagalattica. Praticamente c'è sto tizio, un guerriero nordico, che è sempre immerso nel nulla, nel bosco, nella neve, non c'è nessuno. È l'unico personaggio del film, l'unico personaggio del film, quindi non interagendo con nessuno, non parla con nessuno. Quindi è sempre muto, sembra un film muto, però... Cioè, è ovvio che non è un film muto, però lui non parla, non interagisce con nessuno, perché è l'unico personaggio umano recitante del film. E quindi capirai, a guardare questo film, anche se dura solo 70 minuti, ci si fa... Cioè, non succede niente, niente. Anche questi presunti scontri con questi mostri, questi troll, questi demoni, non si sa. Non si vedono, non si vede un cazzo. Viene tutto lasciato così alla fantasia. L'hanno fatto per nascondere, evidentemente, non avevano i soldi per produrre. E quindi l'hanno fatto, però ho capito, fa cagare, cioè il risultato è una palla, fa cagare. Tu sei lì che per un'ora abbondante guardi e non sai cosa stai guardando, perché non si capisce niente. Non si vede niente, c'è solo un personaggio e non parla con nessuno. Sì, un paio di volte dice due frasi, perché stava parlando da solo. Praticamente, sì, parla a voce alta, pensa a voce alta questo personaggio. Due volte in 70 minuti. È veramente una palla al cazzo. Quindi cosa volete che vi dica? Una totale delusione. Forse l'unica cosa che salverei di questo film, magari sono le ambientazioni, però grazie, quella è la natura. E poi i costumi. I costumi, devo dire, anzi, il costume, perché è uno il personaggio. Però devo dire che è molto ben fatto, è molto accurato. Però basta, le uniche due cose che si salvano sono queste. E fra l'altro mi sono reso conto adesso che, dicendovi che non succede niente per tutto il film, praticamente è una specie di spoiler questo, alla fine. Anche se non vi ho raccontato niente, siccome nel film praticamente non succede quasi niente, è come se ve l'avessi spoilerato. Però ormai è andata così. Un saluto e un grazie ad Andrea Spingardi che mi ha regalato il DVD. Prima di chiudere, ovviamente, un saluto anche a tutti i miei Patreons, e in particolare a Davide Ciriello. Nuovo arrivo fra i Cavalieri di Bronzo. Ciao e ci vediamo al prossimo film. Sperando che non sia un altro film de merda.